Là dove c'era l'erba, là dove Gigi Riva ha tirato i primi calci al pallone, ora c'è un parcheggio. A Leggiuno però tutti hanno nel cuore, rombo di tuono, il Gigi con l'articolo davanti alla Lombarda, nato di fronte alla chiesa di San Primo, dove c'era il campetto di calcio. I ricordi del Gigi, ma io ne ho male i ricordi, ma quando era piccolino così, quando c'erano i suoi genitori. L'abitazione è più giù, avanti lì c'è la chiesetta, lì c'è l'oratorio, il campo sportivo. Il campo sportivo era un campetto che si giocava sui sassi e lui, pur essendo piccolino, se non prendeva il pallone, dava ai pedati anche i sassi. Tutti hanno nel cuore il Gigi che tornava ogni tanto a Leggiuno, magari per pregare sulla tomba dei genitori, persi prestissimo. Apparentemente sembrava un po', diciamo, spaesato insieme agli altri, per la fine il pallone, dato quella forza e necessità per vincere, ha trovato il suo suogo e l'ha portato ad essere un grande campione. In municipio ci sono le maglie di riva, quella del Cagliari autografata e quella della Nazionale degli Europei del 1968, e domani il sindaco sarà a Cagliari per i funerali dell'amico. Un anno in più, io ho 80 anni e lui 79, e quindi sì, però ci siamo conosciuti assolutamente, anche se non ci siamo frequentati più di tanto, essendo io una schiappa assoluta del calcio, per cui lui aveva un sacco di amici che giocavano con lui. Un'iniziativa che stiamo già pensando da un po' era dedicare il nostro campo qua di calcio a lui, ovviamente. E domani tutto il paese ai piedi delle prealpi si fermerà per sentire, per l'ultima volta, il rombo di tuono.